buongiorno buongiorno amici allora oggi è 24 aprile sono le 12 e 38 siamo arrivati allo stadio olimpico come vedete per lazio milan di questa sera adesso vi faccio vedere tutto il percorso che noi facciamo per per arrivare vi porto fin dentro al al terreno di gioco dove andremo a montare la polca però chiaramente prima di fare questo passiamo al botteghino per ritirare i nostri pass allora eccoci eccoci entrati nell'olimpico siamo sotto la tribuna montemario adesso stiamo raggiungendo un po di giri per arrivare dentro alla sbarra abbiamo ritirato i nostri pass la lazio questa volta non ci ha dato i cordini forse li avevano finiti perché in genere il cordino che tratto per noi sono anche dei bei elementi da collezione quindi a noi piacciono molto quando ci sono anche i cordini sponsorizzati delle squadre non tutti non tutti lo fanno la lazio l'ha fatto per qualche giornata adesso li hanno finiti comunque siamo qui all'olimpico vi faccio vedere questo è l'ingresso adesso c'è la sbarra abbassata che io vado ad alzare perché c'è la foto cellula dall'altro lato bene entriamo nel nella pancia dello stadio olimpico vedete questo è lo stesso ingresso dove arrivano le squadre dove arrivano i pullman i pullman si fermano qui perché qui c'è il tetto basso e non riescono a passare noi invece andiamo avanti vedete questo è il nuovo restyling dell'olimpico che è stato fatto dopo gli europei lo sporco che vedete del mio vetro chiaramente vedete qui a sinistra c'è uno dei monitor quella è la zona flash qui praticamente dove a fine partita si fanno le interviste ai calciatori subito dopo la partita ma noi guardate dove entriamo adesso chiaramente ci sarà un controluce ecco qui siamo praticamente sul terreno di gioco ecco quella è la curva di destra dove noi andremo a montare la nostra polca ecco qua ecco 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 Grazie a tutti.